ciao da luci oggi con questo bellissimo filato melange della bbb qui faremo un bellissimo scallacollo da uomo questo filato ve l'ho fatto vedere in una recensione uscita proprio in questi giorni ed è un filato che io ho acquistato da un filo di passione quindi nello shop dell'amico alessandro che mi invito ad andare a guardare perché ha al suo interno tantissimi tantissimi filati molto molto belli tra i quali troverete anche qui in questo in questa colorazione e in altre colorazioni intanto vi dico che questo filato è un 61 per cento lana 39 per cento acrilico ed ha come ferri 10 12 ovviamente noi usando l'uncinetto io adesso proverò a usare un uncinetto numero 7 mi sembra abbastanza indicato per questa lavorazione un gomitolo da 100 grammi è da 95 metri noi andremo a fare uno scallacollo da uomo che sarà più che sufficiente per appunto questo progetto quindi sarà questo gomitolo sarà più che sufficiente per questo progetto quindi andiamo subito 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 al tutorial allora per il nostro progetto io ho avviato 60 catenelle ovviamente lavorato con questo filato e un uncinetto numero 7 allora 60 catenelle vi dico subito subito che lunghezza si raggiunge con le 60 catenelle così chi non dovesse usare il mio stesso filato può comunque avere delle indicazioni più precise allora la mia catenella misura 69 centimetri calcolate che si dilaterà ulteriormente il lavoro man mano che andiamo a farlo perché a lavorarlo perché comunque le maglie insomma un po' dilatano la catenella iniziale allora puntiamo l'uncinetto non sulla prima non sulla seconda ma sulla terza catenella di inizio e facciamo una maglia bassa dopo di che facciamo una catenella saltiamo una maglia una catenella e lavoriamo nella successiva una catenella saltiamo una nella successiva una maglia bassa continuiamo così per tutto questo giro allora vi accorgerete che la lavorazione è molto molto semplice arrivati in fondo al giro vi avanzerà una catenella probabilmente ho sbagliato i calcoli di avvio perché il multiplo di questo punto di fatto è 2 più 1 quindi io probabilmente ho messo una catenella in più poco male perché tanto disferemo questo come si dice questo il cappiolino iniziale ecco quindi ora facciamo 2 catenelle lavorate molto morbido perché questo filato tende molto a incastrarsi quindi fate 2 catenelle voltate il lavoro ed ora andiamo a lavorare negli spazietti quindi nel primo spazietto che incontriamo andiamo a fare una maglia bassa facciamo una catenella per saltare la maglia bassa sottostante nel prossimo spazio andiamo a fare la nostra maglia bassa una catenella prossimo spazio una maglia bassa una catenella vedete tende a incastrarsi tirate bene una maglia bassa catenella deve essere il mio uncinetto che è un po appuntito in modo strano a questa parte qua che è poco è fatta un po male quindi sempre catenella saltiamo la maglia bassa e andiamo nel prossimo forellino fatto da una catenella quindi tendiamo piano piano in questo modo di nuovo maglia bassa prossimo foro ecco qua quindi andiamo avanti così fino al termine del giro siamo arrivati vedete ho lavorato nell'ultimo foro qua c'è la maglia bassa e qua quindi facciamo la catenella per saltare la maglia bassa qua ci sono ora non si vede perché è scuro il filato quindi questa è la maglia bassa qua ci sono le due catenelle iniziali che avevo lavorato quelle di inizio giro quando noi facciamo le due catenelle formano questo forellino e noi proprio in quel forellino ci andiamo ad infilare facciamo la nostra maglia bassa ricreiamo di nuovo le due catenelle che saranno quelle che poi al ritorno nel prossimo giro saranno quelle che riformeranno questo buchino ed ora rifacciamo la stessa cosa quindi facciamo abbiamo fatto le due catenelle voltiamo il lavoro andiamo a lavorare nel primo foro quindi qui qui c'è la maglia bassa qua c'è il primo forellino entriamo e facciamo la maglia bassa di nuovo catenella saltiamo la maglia bassa prossimo foro ci entriamo e facciamo la maglia bassa quindi lavoriamo così per adesso vi dirò quanti giri fatto anche il ventesimo giro procediamo in questo modo allora abbiamo fatto l'ultima maglia bassa facciamo una catenella rientriamo dove abbiamo fatto la maglia bassa e facciamo una maglia bassissima ora faremo una maglia bassissima per le prime quindi faremo cinque maglie bassissime quindi due tre anzi quattro scusate quattro maglie bassissime una due catenelle le catenelle che deciderete di fare saranno anche in base alla grandezza del vostro dei vostri bottoni perché andremo ad applicare dei bottoni salto una maglia sottostante vado avanti a fare le mie scusate maglie bassissime quindi non baste ma bassissime entro faccio le mie maglie bassissime fino ecco qua quindi all'altra metà non è necessario che sia preciso non è un'equazione matematica questo scaldacollo quindi andate più o meno quindi altre due catenelle sempre in base al vostro bottone calcolate sempre nel salto una e quindi ora finisco vuol fare maglie bassissime fino alla fine quindi del nostro del nostro lato corto ecco qua scusate questo filato è bellissimo ma i peletti si incastrano quindi aspettate un attimo che vediamo bene ecco qui magari con la lavorazione a coltello si riesce un po' meglio ecco qui quindi chiudo nell'ultima ecco qua con una catenella di sicurezza è più sicuro di così muore e ho finito il mio caldacollo vedete abbiamo al centro i nostri bottoncini le nostre asoline per i bottoncini perdonatemi io ho già nascosto i fili quindi vado a tagliare gli eccessi e prima di continuare vi do le misure del mio caldacollo così che voi abbiate tutte le indicazioni per farlo anche con volendo un altro filato allora è da 61 centimetri di lunghezza per 17 17 e mezzo di altezza a questo punto non ci resta che vedete abbiamo il nostro caldacollo finito che è una semplice trisciolina lo ecco qua lo accostiamo in questo modo qua ci sono le nostre due asoline prendiamo due bottoncini io direi il più semplici possibili perché ovviamente è uno scaldacollo da uomo e andiamo a cucirli in prossimità quindi vedete dove ci sono le nostre asoline io non rimango proprio sul bordo vedete attaccata attaccata al bordo rimango un pelino distaccata dal bordo in questo modo prendo la misura e vado a cucire i miei due bottoncini ecco qua finito il nostro semplicissimo caldacollo vedete ecco qua giro bene la videocamera è veramente facile veloce molto molto bello il punto adatto comunque per un uomo un punto molto fitto quindi comunque rimane molto coprente non c'è il problema di solito gli uomini non amano molto infilare ecco diciamo dalla testa lo scaldacollo e questo vedete si chiude così si allaccia con i semplicissimi bottoncini ed ecco qua il nostro scaldacollo fatto allora spero che anche questo progettino vi sia piaciuto ovviamente in descrizione come sempre vi lascio il link per diretto al filato e il link allo shop allo shop dell'amico alessandro un filo di passione dove troverete questo bellissimo filato che ribadisco si chiama melange by bbb e io per questo scaldacollo ne ho usato un gomitolo questo è ciò che è avanzato quindi vedete ne è avanzato pochissimo quindi un gomitolo è sufficiente per fare questo bellissimo scaldacollo io vi do un bacione grande vi saluto vi invito a venirmi a trovare nel gruppo facebook creando con luci oppure su instagram sempre creando con luci oppure iscrivetevi anzi senza l'oppure iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e cliccate la campanella per non perdervi neanche uno dei miei video un